Rivoluzionaria scoperta nella lotta all'inquinamento da plastica, è stato creato in laboratorio un superenzima in grado di digerire il PET, polietilene tereftalato, polimero molto diffuso che rende la plastica resistente. Scienziati dell'Università di Portsmouth nel Regno Unito e del Laboratorio Nazionale per le Energie Rinnovabili negli Stati Uniti hanno studiato un batterio, l'idonella Sacaiensis, isolato due anni fa dall'Istituto di Tecnologia di Kyoto. Il team britannico-americano ha modificato la sua struttura, aggiungendo amminoacidi che hanno portato alla creazione di un enzima artificiale ancora più efficiente di quello naturale. Una genesi avvenuta quasi per caso, ammettono gli scopritori, ma che apre la strada ad un nuovo filone di ricerca di notevole importanza per le generazioni future.